Dai, salta con quel culone, bravissimo! Allora, 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 vieni qua, vieni Mao, siamo pronti, siamo pronti e buonasera ragazzoni! Benvenuti in questo nuovo Gossip Crime in cui vi devo aggiornare sulle vicende ferragnezzose, ovvero parliamo della loro nuova vita da shingle, delle figure di merda di Fedez, solite fedezate insomma, anche della perdita del ruolo di Chiara Ferragni in una sua importante rappresentanza nel consiglio di amministrazione di Todds, quindi un altro pezzo del suo impero che si disfa. Parleremo anche del fatto che Chiara è scesa ufficialmente dal pero, ha smesso di ignorare hater e follower, ha ricominciato, ha cominciato perché in realtà mi sembra che non l'avesse mai fatto prima, a rispondere ai commenti, si è anche caponata, caponita con un hater tale Giovanna666, dai e Giovanna, e parleremo anche della Ferrari prima in Italia di Fedez, che poi in realtà non era la prima in Italia, quindi ha sburonato un po' così, la sua nuova vita da shingle che è all'insegna della sburonaggine, e parleremo anche di Gesù che fa bungee jumping. Quindi buona visione, oggi una puntata molto all'insegna della leggeressa, in attesa della reaction che faremo all'intervista di Fedez a Belve. Per quanto riguarda il crollo e la rovina dell'impero Chiara Ferragni, insomma stiamo assistendo veramente al disfacimento totale di tutto ciò che ha creato nella sua splendida carriera, perché poi fatta punfete. Ovviamente una carriera legata principalmente alla sua persona, alla sua immagine, che ad ora è completamente distrutta, e quindi ovviamente anche tutto ciò che ne consegue. Chiara ha perso altri 100.000 followers, vi ricordate che eravamo rimasti che ne aveva 29.2 milioni, adesso siamo a 29.1 milioni, quindi molto più lontani dai 30 milioni insomma che aveva inizialmente. Ha perso anche il suo ruolo nel consiglio d'amministrazione di TOTS, che per l'appunto non le rinnoverà il contratto. Chiara Ferragni a me sembra una che non abbia mai voluto prendersi direttamente delle responsabilità, in senso, io l'ho sempre detta questa cosa, cioè non ha mai voluto occuparsi direttamente degli affari suoi in realtà. Cioè come una sorta di delegatrice seriale. Ecco che vediamo effettivamente concretizzarsi questo comportamento nel suo ruolo di consiglio, nel consiglio di amministrazione di TOTS, perché appunto lei, fatto un assenteismo incredibile, ovvero su 17 riunioni alle quali doveva partecipare, ha partecipato soltanto a tre. Mandando ovviamente assistenti vari, eccetera. Questo ci fa capire abbastanza, no, come lei sia sempre stata superiore, un po' in alto alla situazione, inizia a mai badare a quelli che erano poi i suoi affari. Quindi immagino che delega, 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 non controlla, non controlla, non controlla, poi succedono i bordelli e ricadono su di lei, che chiaramente avrebbe dovuto invece controllare anziché sbattersi nelle balle. Ecco che un'altra fetta di culo se ne va. Per quanto riguarda i Ferragnez, non lo hanno ancora comunicato ufficialmente, ma la fine della coppia è ormai palesissima. non hanno ancora avviato, diciamo, ufficialmente un divorzio, ma sembra che tra diffide l'uno con l'altra, avvocati, divorzisti, eccetera, insomma, il divorzio sia qualcosa di imminente. Chiaramente ci sono state le vacanze pasquali, la prima festività che viene passata ufficialmente separata dalla coppia. Chiara è andata a Dubai con i figli e la sua famiglia. È andata insieme a sua sorella Valentina, con sua madre e alcuni amici, con cui ha festeggiato Pasqua e Pasquette. Dalle foto che lei posta, dalle foto e dalle stories, sembra che si diverta, che faccia festa. L'apparenza sembra tornata, diciamo, attiva e spensierata sui social, però noi sappiamo che di certo non è questo il suo reale stato d'animo. In realtà fugge all'estero perché così non si sente gli occhi di tutti puntati addosso, il giudizio di tutti, insomma, che la guardano storta. E si può godere un po' l'esterno, no, respirando. Pritela però, ecco, anche molti commenti parlano di questo, cioè andare in un paese arabo con i breghini smutandati, la canottirina così. Poi, beh che Dubai penso che sia piena, insomma, di occidentali e non sia così stringente come cultura, siccome è una meta molto, molto, molto turistica. Posso dire che non mi dispiace, nei comuni mortali ci facciamo un culo a porta aerei per portare a casa la pagnotta. Una che non fa un cazzo e ne becca le conseguenze, mi sembra solo karma. Effettivamente, cioè, non è che non faccia un cazzo, perché sicuramente lei ha fatto molto per arrivare dove è arrivata, poi una volta arrivata è come se si fosse seduta sugli allori. Tant'è che, per esempio, non ha neanche mai badato molto i suoi social, cioè non era una che rispondeva mai ai commenti, o che rispondeva sempre solo ai vips, che fossero almeno famosi quanto lei. Quindi è sempre stata molto snobbettina in questo senso e le torna tutto indietro. Infatti adesso la vediamo cadere proprio dal pero e sentiamo proprio... Scusa, ma dovevo fare l'onomotopea. Insomma, lei è lì spensierata con la famiglia, le foto, felice, in vacanza, Dubai, ma zanuda. Tra l'altro ha fatto anche la foto in bikini, in denim, in cui mostrava, insomma, il suo corpo. Che vi piaccia o non vi piaccia, poco importa, insomma, il corpo che ha, lo fa vedere, va bene. Insomma, tutto questo però non va bene ai suoi haters o ai suoi follower che poi si sono trasformati in haters follower. Perché anche gli haters sono followers alla fine, se no come fanno ad odiarti se non ti seguono e non ti guardano? Quindi anche loro fanno parte in realtà del business. Tra l'altro è estremamente stupido lasciare commenti denigratori sotto qualcuno che vuoi danneggiare, perché in realtà aiuti soltanto l'algoritmo a far gire ancora di più il video, poi lo vedi, poi la foto, il post, quindi... Ciao. Dunque, questi suoi haters hanno commentato negativamente il fatto che sia partita con la sua famiglia. Sostanzialmente non gli va bene che c'è la famiglia presso, che lei, insomma, c'è sempre dietro, diciamo, questa processione di parenti, non gli va bene che si mostri serena nelle foto, non gli va bene che si faccia le foto, tutti che gli dicono che deve sparire, anche Fabrizio Corona le ha detto devi sparire, puoi tornare, diversa. Io non credo che debba sparire per forza. Perché deve sparire? Adesso se vuole mettere le foto, che le metta, però effettivamente potrebbe essere furbo uscire un po' dal personaggio dell'angelo del focolare e cominciare a essere un po' più, magari, spregiudicata, un po' più ironica, un po' più qualcosa che non sia la sciapitudine con cui si è sempre mostrata. Tuttavia, questa volta, no, in realtà è un po' di volte, non è la prima volta, è qualche settimana che Chiara si è abbassata a rispondere ai commenti e a rispondere agli haters. Quindi abbiamo Chiara Ferragni scesa dal pero ufficialmente, una cosa che non aveva mai fatto. Tra l'altro lei era sempre quella che ignorava haters, ma anche servizi televisivi, giornalistici, cioè lei era sempre quella superiore, era quella che... Cioè, regà, manco io rispondo agli haters, se lo fa Chiara Ferragni, che poi si accapponisce, si accapponisce. Adesso vediamo che è successo con Giovanna 666. Tra l'altro, con tutto l'amore, cioè voi siete i migliori 666 che abbia mai avuto, ma a volte gli hater, che si riconoscono come tali, oppure i one, coloro che si identificano in troll, spesso hanno all'interno del loro nome 666. Voi siete bellissimi, i miei 666 qua non sono di quella rassa lì, ma in generale può succedere. Tuttavia, Giovanna 666 dice A me tu piace molto, però ho sta storia della tua famiglia sempre dietro, non so, dovresti cambiare rotta, cambiare mood. che Chiara le risponde e dice ma in che senso? La famiglia non è sempre con me, con me quando ho bisogno di loro. Cosa c'è di strano? Avete un'idea molto distorta della realtà. Effettivamente, che cazzo, cioè con tutto quello per cui può essere attaccata Chiara Ferragni, perché le rompete il cazzo se ha una famiglia che la ama, che la segue in vacanza, che non la lascia mai da sola, una famiglia unita, che le manifesta sempre vicinanza, al posto di scappare come topi dalla nave, nel momento in cui la parente è appestata. Cioè Ferragni è una famiglia che nonostante tutto te sta comunque dietro e non ti gira il culo dicendoti ah 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 te la sei cercata stronza, noi quel cazzo che adesso leghiamo la nostra immagine a te. Giovanna ricommenta e scrive Essere vicino a lei vuol dire sposarsi tutti. Io non lo avrei fatto. La famiglia è importante, ma non deve essere divorante. Tutto qua. E Chiara ririsponde. Infatti non è mai stato così. Mai lo scrive in maiuscolo. Ho una domanda, no? Ho una domanda. Perché Chiara tra tutti i messaggi di odio che ragazzi vi assicuro sono migliaia sceglie di rispondere proprio a questo? Sarà un punto sensibile? Secondo me, voi lo sapete che io ci devo ficcare la psicologia anche nel gossip, insomma questo è il bello de Bougalà. Secondo me sì, per entrambe, spero. Giovanna, quantica e attacca costantemente la presenza della famiglia che secondo me è una cosa che le manca. Secondo me è qualcosa che a lei fa rosicare. cioè che palle questa qui fallita, distrutta, ma ancora persone che la amano e io invece che non ho truffato nessuno, non ho nessuno che mi ama. A me dà un po' queste vibes, Giovanna666. mentre Chiara probabilmente viene superata da questo argomento, ovvero famiglia invadente, famiglia sempre presente, famiglia un po' un po' elicottero. È una mia interpretazione, potrei sbagliarmi, ma le persone spesso quando reagiscono, soprattutto di petto così, non lo fanno a caso. Poi arriva Mehdi4014 che scrive Mi dispiace, ma non mi piace. Che è la ripetizione della stessa cosa, comunque. Mi dispiace, ma non mi piace. Far finta di vedere che i bambini si divertono con la parentela. Questi bambini si sono divertiti sempre e solo con papà. Mi sa che Mehdi ha stilettato nel cuore la Ferri. Infatti risponde, infatti risponde, dice Ma come fate a dire queste cose come se foste con noi e sapeste la realtà delle cose? Devo dire che Chiara arrabbiata ma è la stessa verve di Chiara sempre. Cioè non lo so, è così sciappa, raga, ma come vuoi essere così sciappa anche quando si arrabbia? Sì, no, giuro ragazzi, io le persone così purtroppo ne ho conosciute e non riesco a andarci proprio, non ce la faccio, non mi danno niente, mi sembrano degli NPC. personaggi non giocanti della vita proprio. Rispondendo agli haters, rispondendo ai messaggi, lei ogni tanto mette anche dei cuoricini a caso della gente non per forza famosa. Diciamo che come se stesse ricominciando dal basso, ha perso un po' questa sua irraggiungibilità. sicuramente sicuramente ha perso lo snobismo di cui insomma si è caratterizzata fino a questo punto perché prima col tavolo che si sarebbe messa lì a rispondere ai commenti era troppo superiore a questo, no? Beh, ha un altro commento a cui ha risposto insomma questo altro commento e soprattutto la sua risposta hanno scatenato un'ondata di sorpresa ma anche indignazione. Vero? C'è stata un'associazione di beneficenza che ha lasciato un commento sotto un post di Chiara. Siamo un'associazione che si occupa di inclusione sociale per i bambini. Vorremmo parlarti. Come si fa? Grazie. Lei risponde. Risposto in DM. Cioè per chi non fosse pratico di Instagram ha risposto in messaggio privato. ovviamente quasi è scatenato l'inferno l'indicibile perché magari sono dei troll però effettivamente fossero stati dei troll non sarebbe successe cioè l'avrebbero detto pare che il profilo sia verificabile. Beh insomma sono scatenati un po' tutti cioè della serie ma veramente ancora con la beneficenza ma ma stiamo scherzando e prima tra tutti ovviamente grande paladina nonché colonnello generale imperatrice dei troll e degli haters è la nostra Lucarelli no? Che se può far uccidere qualcuno no scherzo dai non vuole lei far uccidere le persone però succede non è che è colpa sua però succede quindi niente calchiamo la mano eccetera quindi arriva lei e scrive la vera bulla non so se fa più ridere che risponde pubblicamente a chiunque dopo non aver mai filato nessuno per anni giornalisti e tv comprese o il fatto che risponda pubblicamente a una cosa del genere dopo quello che è successo o se fa più ridere la tizia che vuole coinvolgere la Ferragni in un'attività del genere testimonial ideale ps ricordo che Ferragni ai tempi non ha mai parlato direttamente con i destinatari della beneficenza balocco e dolci preziosi questo è vero ma c'ha ragione c'ha ragione è il modo tenente quello è il problema è la modalità proprio bullesca con cui comunica in generale istigando sempre all'odio al vergognati istigando sempre quelle emozioni che vengono istigate dai bulli effettivamente lei non aveva mai parlato direttamente ai destinatari della beneficenza da balocco e dolci preziosi mentre adesso si mette addirittura a rispondere personalmente sotto un commento lasciato così raga cioè torna babbana torna babbana scende dal perro ormai è scaduta caduta spiacicchierata cosa combina Fedez Fedez è rimasto in Italia le vacanze di Pasqua anche se oggi è partito per Miami con i bambini quindi questi bambini vanno a Dubai tornano da Dubai poi vanno a Miami io credo che siano i bambini più stressati del mondo comunque lui durante le vacanze Pasquale è rimasto in Italia ha trascorso le vacanze in uno chalet in Valle d'Aosta nessuno però sa con chi fosse perché si faceva le foto ai peli delle gambe e alle mutande insomma non mostrava altre persone forse era da solo forse era con qualcuno non lo sapevo comunque Fedez nella sua nuova vita da single ha deciso di diventare sempre più sborone consolandosi e riempiendo questo vuoto lasciato da Chiara con giocattoli sempre più costosi auto di lusso vini da migliaia di euro vacanze di lusso là nella Valle d'Aosta foto e stories con gli amici trapper nuovo appartamento enorme di lusso comprato in centro a Milano di cui tra l'altro divulga l'indirizzo poi si lamenta di avere i giornalisti sotto cusa ma tutto ok insomma sboronaggine con disagio vario è involuto il nostro Fedez sembra quasi in crisi di mezzettà insomma è completamente involuto ci sono le persone che maturano lui smatura lui si acerba diventa ancora più acerbo ma sfoggiato la sua nuova Ferrari Roma che potete apprezzare qui nel suo celeste quartiere di Roma che ha presentato celeste trastevere con la t vabbè quel colore lì insomma azur grigiole azur grigiole una nuova nuance celeste piscio quando pisci celeste vuol dire che l'angelo azzurro ha fatto fin troppo il suo lavoro insomma ha presentato questa macchina ai suoi followers con una serie di stories su instagram insieme al padre che ha avuto l'onore di guidarla per primo insomma lui fa il papà molto attaccato col papà e poi se l'è tirata dicendo che quella era la prima venduta in Italia ma il primo modello di Ferrari Roma ce l'aveva lui insomma un'altra delle sue fedessate perché è stata subito smentita questa cosa dal proprietario della vera prima Ferrari Roma in Italia nonché Federico Dotto un imprenditore padovano che si occupa di restauri di condomini e anche un food blogger su instagram non so come Fedez possa dichiarare che la sua è la prima probabilmente nemmeno la mia è stata la prima ad arrivare in Italia solo i concessionari hanno queste informazioni e comunque Fedez non fa una gran figura a vantarsi di queste cose io me li sono immaginata scusatemi io ovviamente non ho assolutamente idea di come sia il pipo dell'uno il pipo dell'altro ma me li sono immaginata a giocare a spadaccino con i loro piselli con le mani sui fianchi e farci così quindi bella immagine devo dire bella immagine pasquale proprio piacevole dunque in tutto questo ragazzi io credo che Fedez stia vivendo veramente un'involuzione probabilmente vuole tornare ai suoi vent'anni spera di potersi reinserire nel giro dei trapper esibizionisti ok tra l'altro anche le foto che fa con gli altri trapper del panorama odierno ma forse fanno pensare che voglia un po' tornare al vecchio stile di vita e la separazione dalla Ferragni probabilmente ha liberato Fedez da quel senso di responsabilità a cui lei lo sottoponeva cioè probabilmente Fedez era sempre trattenuto da lei che gli diceva sii maturo fai l'adulto non ti mettere questo mettere quello non dire questa cosa avete visto quante volte lui sbarella e lei o si incazza o se la prendeva o insomma lo tratteneva lei è anche la madre di lui che hanno sempre cercato di insomma contenere il suo esibizionismo la sua tracotanza ecco ma tutto ciò vi vorrei leggere un articolo che io non commenterò ma lo farete voi così mi dite voi cosa ne pensate perché Fedez ogni giorno praticamente si lamenta del fatto che la stampa italiana si concentra su quello che fa lui sui suoi post su scusate c'è stato un momento di tremolio della telecamera insomma si lamenta molto che i giornalisti siano concentrati su di lui e qui c'è un articolo della giornalista Roberta Marchetti su Today parla proprio del rapporto tra Fedez e il giornalismo leggiamo dillo alla mamma dillo all'avvocato Louise Sall aveva già descritto tutto perfettamente in quattro parole dato approfitto della situazione per dirvi che ricomincia Muschio Selvaggio ma con la conduzione di Louise Sall insieme a Omiatol che io lo conosco per essere uno streamer su Twitch poi ho scoperto che in realtà ha fatto un sacco di altre cose prima di venire su Twitch non lo sapevo la permalosità di Fedez il suo costante desiderio di rivalsa l'indole vendicativa e rancorosa ma soprattutto l'arroganza di volersi sentire sempre dalla parte della ragione a tutti i costi anche negando l'evidenza un burattinaio capriccioso pronto a tagliare i fili delle marionette meno obbedienti per poi andare puntualmente alla ricerca di nuovi pupazzi da muovere offrendogli l'ambito cachet della fama o sfruttandola loro lo ha fatto con Mr. Marra che per dieci mesi ha condotto insieme a lui il muschio selvaggio al posto di Louise ma prima ancora con una serie di artisti che ha ciclicamente caricato a bordo e poi scaricato più o meno pacificamente da J-Ax a Rovazzi fino ai vari Achille Lauro Tananai e Lazza per ora l'unico che ancora resiste forse anche per via della loro bevanda lanciata da poco sul mercato Lazza intende l'attitudine al carico e scarico è talmente forte che spesso prende il sopravvento e diventa difficile da gestire un po' come Rocco Siffredi con il suo datore di lavoro che gli costa caro quando si tratta di ragionare su livelli più alti rispetto a quelli di un materasso talenti annebbiati perché se il giornalista qui ci va c'è la ticca piano la ticca piano stavolta Fedez la figura del Volta Gabbana lo fa con la stampa e non è la prima volta ultimamente accusata spesso da lui di occuparsi delle sue faccende private invece che di cose più serie la stessa stampa che in passato gli è stata molto utile a sbandierare beneficenza aia pseudo battaglie sociali ma sarebbe meglio dire social è una lunga lista di operazioni commerciali dagli hai fallito? ho fatto un fail me l'ho solo persa comunque è la lunga lista di operazioni commerciali dagli smalti ai drink al drink firmato con l'Azza insomma per Fedez i giornali a volte servono e altre volte no a volte vanno chiamati altre evitati a volte sono indispensabili e autorevoli perché si occupano delle sue cose serie altre spazzature da ridicolizzare su Instagram con storie provocatorie carico e scarico come sempre a seconda di cose più utile quindi sì all'intervista di Cazzullo sul Corriere appena dimesso all'ospedale dopo le emorragie a ottobre scorso sì alle dichiarazioni rilasciate settimanale oggi proprio in questi giorni per sapere l'Italia intera che porta sempre i figli a Rozzano per mostrargli le sue umili origini nel pieno della separazione da Chiara Ferragni che mentre lui parlava con la giornalista era con i bambini a Dubai e alla fine sì pure alle imboscate sotto casa della nemica Mirta Merlino nei giorni in cui chiedeva privacy assoluta sul suo matrimonio perché in fondo tra un corno portafortuna e qualche battuta diventata virale l'inviato è riuscito a renderlo anche più simpatico e di questi tempi serve poi per carità a scrivere dei suoi selfie in mutande fatti allo specchio per far vedere la nuova casa in cui è trasferito oppure della Ferrari appena comprata e sfoggiata con orgoglio in ben quattro storie da quando solleva il velo rosso a quando il papà la guida felice oppure della foto con Barbara D'Urso incontrata in treno quello è il baratro dell'informazione il collesso contenuti che incessantemente dà in passo a milioni di followers per le stesse dinamiche per cui finiscono sui siti i click e qui la giornalista conclude con una ammissione sincera cioè dirà che Fedez dipende dal giornalismo come il giornalismo non dipende da Fedez nel senso che si asfalta Fedez per tutto l'articolo per poi alla fine dover ammettere adesso ve lo leggo che il giornalismo però ha bisogno di parlare di Fedez per fare i click perché la gente clicca sulle minchiate quindi sono costretti a scrivere minchiate perché scrivono le robe serie magari più importanti poi non fanno click e non vendono infatti sentite il rapper influencer o la paladino dell'informazione si nutre di visibilità e la stampa tutta la alimenta se questo sia giusto o sbagliato e sullo stato di salute dei giornali costretti a macinare visite online per esistere si dovrebbe scrivere un capitolo a parte o anche più di uno ma Fedez dovrebbe avere quantomeno l'onestà di non negare di far parte dello stesso sistema la differenza è solo una e non è di poco conto i giornali possono smettere di parlare di Fedez ma ad oggi Fedez non può permettersi di non finire sui giornali è un articolo che fa pensare c'è da dire che ha scritto su stronzate su gossipate qualcosa che effettivamente fa pensare lei si chiama Roberta Marchetti non l'avevo mai sentita a dire il vero è la prima volta che poi c'è da dire che sono anche stronza perché leggo gli articoli ma non leggo chi li ha scritti ma non è una Ferrari è una Lamborghini a meno quella nella foto e se ho sbagliato macchina editor ti prego metti quella giusta io non ne so niente di macchine mi sembrava una Ferrari mi sembrava figa allora ho detto eh macchina figa allora da un paio di settimane a questa parte i figli dei Ferragnez non vengono più fotografati in volto ma sempre e solo di spalle la cosa ovviamente indispettito moltissimo gli utenti dell'Instagram molti si chiedono perché altri parlano di ipocrisia avendoli sempre mostrati da quando erano solo ecografie cioè della serie perché cioè adesso nascondi il volto quando fino all'altro ieri ci hai fatto vedere vita morte miracoli no però che cosa succede per diffondere l'immagine di un bambino serve il consenso di entrambi i genitori basta che uno dei due si sia opposto soprattutto in fase di separazione basta che uno dei due si opponga perché l'altro non possa più pubblicare alcuna foto del bimbo pena il divorzio diventa un'inculata per chi non rispetta questa decisione e sicuramente il divorzio è imminente e credo che nessuno dei due voglia essere inculato col sabione ora no non è perché piangono sempre probabilmente piangevano sempre anche prima ma momento in cui non piangono li fai sorridere insomma sono in grado di farsi le foto ora qual è il punto il punto è chi dei due ha imposto all'altro di non mettere più il volto dei figli è uscita un'indiscrezione un'anticipazione di quella che sarà l'intervista di Fedez a Belve il programma di Francesca Fagani nota per mettere anche un po' a disagio i suoi intervistati hanno già registrato l'intervista il 28 di marzo ma andrà in onda il 9 di aprile e non il 2 che doveva essere oggi come avevo promesso che avevamo fatto la reaction ma poi l'hanno slettata quindi la faremo il prossimo martedì sono uscite già alcune anticipazioni innanzitutto la giornalista ci ha tenuto a smentire la notizia che campeggiava su tutti i giornali ovvero che Chiara Ferragni aveva diffidato Fedez e la trasmissione dall'andare in onda lei ha confermato che non c'è stata nessuna diffida da parte di Chiara Ferragni e che hanno potuto procedere con l'intervista tranquillamente senza che lei si opponesse praticamente ragazzi hanno spoilerato tutti io non so se varrà la pena guardarla seguire la sua intervista noi lo facciamo lo stesso ovviamente perché sicuramente ci saranno altri argomenti che toccheranno immagino sia un'intervista piuttosto lunghezza quindi martedì prossimo vi aspetto qua subito dopo la messa in onda facciamo reaction sempre così facciamo per anche poter fermare commentare altrimenti in diretta diventa un bordello poi no sappiamo sappiamo che Fedez ha parlato di questo argomento dei figli che si vedono solo di spalle nel nascondere i volti dei figli lui sostiene che sia stata una decisione presa di comune accordo tra lui e Chiara e quindi tutti e due insieme hanno deciso di non mostrare più i volti dei bambini posso dire che non ci credo non ci credo perché i bambini sono parte del business di Chiara Ferragni e Chiara Ferragni non avrebbe mai accettato questa cosa anche perché c'è tra i commenti a cui lei ha cominciato a rispondere c'è un utente che scrive ci mancano i volti dei bambini e lei sottoscrive non so fascinatriste io non credo che sia una volontà di Chiara a togliere i bambini anche perché lei aveva anche tutta la collezione di abiti per bambini accessori per bambini Chiara Ferragni non ci secondo me è stato lui che l'ha imposto a lei come altra cosa da toglierle no come al solito quando c'è una separazione purtroppo tante volte vengono anche usati i bambini per ferire l'altra parte o per danneggiarla chiaramente ovviamente che voi siate d'accordo meno sul sharenting ovvero il condividere foto di bambini a mio parere non avrebbe avuto non avrebbero dovuto farlo fin dall'inizio ma ormai che la frittata è fatta poco senso poi mostrarli di spalle a questo punto non mostrarli più cioè farli vedere di spalle sempre di spalle cioè è quasi fastidioso no sì è roba legale in vista del divorzio assolutamente assolutamente io ecco non se avete dei figli per favore fatemi la cortesia di non farmeli vedere sui vostri social perché mi fanno cacà no scherzo cioè a parte questo no non fatelo non fatelo perché il bambino non può dare il suo consenso ha diritto alla privacy ha diritto di scegliere lui una volta adulto o comunque ragazzino se mostrarsi o meno sui social e non 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 ha veramente senso in più ci sono davvero tantissime bruttissime persone che utilizzano quelle foto per fare cosacce ora ci sono le AI che vestono le modelle ma ci sono anche le AI che svestono le modelle e sicuramente questo può essere applicato anche ai minori non fatelo perché non volete vedere questo materiale girare non lo volete comunque lo spoilerone che abbiamo avuto riguardo a questa intervista imminente che ci sarà appunto tra una settimana è che Fedez si è messo a piangere quindi vedremo Fedez piangere certo lo sentiremo perché noi faremo la reaction audio Fedez piange parlando di Chiara e dei figli si commuove parlerà della crisi matrimoniale ci tiene a smentire le illazioni circolate nei giorni scorsi riguardo ai suoi tradimenti pare che lui non abbia pisellato nessuna per ora insomma non ha flirt con altre donne non ha pisellato altre donne come si è vociferato e poi ha anche spiegato che la decisione di non mostrare più i bambini fosse presa di comune accordo per tutto per tutelarli dagli brutto haters per tutelarli dagli haters perché sono stati anche oggetto di minacce però è un po' strana questa coincidenza perché io ricordo che il bambino vi ricordate la storia della partita di calcio in cui c'era il bambino leone che era andato insomma a partecipare con i calciatori lì a fare le foto leone non mi ricordo che si facevano comunque stavano lì nel campo del calcio con i giocatori ed erano arrivate le minacce da parte di un hater ma si pula di mesi 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 or sono però all'epoca visto che lui e Chiara stavano insieme non c'erano problemi non era scoppiato nessuno scandalo all'epoca non era necessario difendere i bambini dagli haters guarda caso adesso è diventato necessario quando le minacce risalgono a tempi non sospetti per questo io non ci credo quando dice questa cosa non ci credo per niente come vi ho detto oggi che è martedì 2 aprile probabilmente voi dallo youtube lo vedrete domani cioè oggi per voi ciao utenti del futuro Fedez è partito per Miami con i bambini e il padre ma non prima di lasciare dietro di sé l'ennesima polinica ragazzi Gesù che fa bungee jumping saltando dalla croce perché Fedez nel mostrare sboronare il suo nuovo mega appartamento in centro a Milano ha fatto una stories in cui installava questo Gesù salterino che poi in realtà viene da un meme io ho anche la gif su whatsapp che quando qualcuno dice qualcosa di tragico io faccio il Gesù che si butta tipo così è un meme è la la statuzione di un meme e dice nella storia lui Pasqua abbiamo preso questo crocifisso un po' alternativo Gesù Cristo fa bungee jumping colo siccome la sua festa anche lui si diverte ovviamente ha fatto indignare una grossa fetta di persone dell'internet che hanno commentato con commenti di questo tenore una delle cose più scene mai viste una derisione vera e propria della fede di milioni di persone oppure Fedez è praticamente la versione tamarra e milionaria del film big nella sua casa da padre separato ci ha rimesso tutti i giochini che la Chiara gli aveva fatto relegare in soffitto questo mi ha fatto ridere il solito Fedez fa il fenomeno con Gesù in croce perché non fa la stessa cosa con Maometto che noia ma soprattutto io vorrei fare una riflessione spessare una lancia in favore di Fedez questa volta proprio perché non lo può fare con Maometto e perché lo può fare con Gesù questo fa di noi un popolo più libero più democratico abbiamo una religione predominante sì abbiamo una raffigurazione del nostro Dio sì ma questo è legalmente venduto e chi l'ha venduto ci paga sopra le tasse questo fa di noi un popolo libero libero possiamo sputare sul Gesù possiamo prendere in giro la religione possiamo in realtà è un reato bestemmiare ma lo fanno tutti comunque nessuno ha mai subito delle conseguenze penali perché abbiamo ancora la nostra libertà se fosse come in altri luoghi del mondo come appunto paesi musulmani insomma con una religione che fa da legge non saremmo più un popolo così libero quindi ringraziamo e apprezziamo questa libertà di poter essere blasfemi fa di noi un popolo più bello un popolo più evoluto al posto di indignarci diciamo che bello che possiamo farlo che bello che non siamo come i musulmani che invece devono non possono scherzare sia mai che sennò arrivano e ti sparano a te tutti i dipendenti del tuo giornale no grazie al cielo è vero la chiesa fa schifo porco il clero ma io lo posso dire porco il clero e nessuno mi viene a sparare io posso dire Gesù fa jump jumping che io ho fatto un video intero sulla psicologia di Gesù e nessuno è venuto a spararmi cioè ho ricevuto più minacce dagli adepti dell'Abruzzone che da quelli di Gesù ma per favore cioè finalmente voglio dire è bella questa cosa apprezziamola dai bene raga io direi che ho concluso la mia messa oggi quindi posso mandarvi in pace con un Gesù che bungee jumpa ma di ma e per poter sopravvivere ed esistere lo stalker ha bisogno della vostra attenzione crea falsi profili per poter diffondere fake news e far credere alla gente che le sue bugie sono l'unica verità lo stalker contatta i vostri amici i vostri parenti e i vostri colleghi di lavoro con toni gentili per far credere di essere colui che li mette in guardia sul vostro conto lo stalker vi spia e vi fa spiare per avere quello che mai ha ottenuto realmente nella propria vita ovvero il controllo ricordate lo stalker si nutre della vostra paura della vostra frustrazione della vostra ira per cui grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti